Chi canta bene ha detto prega, io gli prego a due volte. Se poi ci metti il cuore, oltre alla bocca e alla mente, canta tre volte. Bene, il coro che dato all'inizio da questa nostra concentrazione liturgica vuol mettere bene esatto come un canto nella Chiesa, la parola di Dio che diventa melodia ed è espressa con la bocca e con il cuore, sono sicuro che non può fermarsi sulla testa. Raggiunge anche i vertici dell'arte e per chi crede raggiunge anche i vertici dell'arte. Io gli auguro in questo inizio, proprio in augurazione dell'estate, musicale, frenetana, di mettere come fuori al cucchiello quando la fate in lanciano non solo la parola, ma la musica, perché è l'espressione più alta, più bella dell'intelligenza e della fede del mondo. Grazie. 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 Grazie.